Ma a livello di politica di occupazione alcuni dati sulle raccomandazioni specifiche per Paese. Le raccomandazioni del 2014 hanno messo in luce la necessità di un maggiore attenzione alla lotta alla disoccupazione di lungo periodo, promuovendo politiche votate al mercato del lavoro attivo e migliorando la performance dei servizi pubblici per l'impiego. Questo è fondamentale per mantenere in una situazione di occupazione i cittadini. Queste raccomandazioni sono rivolte a vari Paesi, ossia Bulgaria, Estonia e Irlanda, Grecia e Italia, Lussemburgo, Spagna e Portogallo, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito. In secondo luogo abbiamo notato che dall'anno scorso vari Stati hanno avviato delle riforme importanti. Tuttavia la segmentazione del mercato del lavoro continua, si concretizza in lavori part-time e precari. Per ridurre la segmentazione del mercato del lavoro raccomandiamo invece lavori di qualità sostenibili che includono una riduzione del numero di tipi di contratto, come nel caso della Spagna. In terzo luogo poi vari Paesi hanno adottato delle misure per adattare i sistemi salariali all'ambiente economico, Francia, Italia, Portogallo e Spagna ad esempio. Questo è successo anche in Germania con il salario minimo. Comunque i sistemi salariali, che si includa anche il salario minimo, l'indicizzazione dei salari, hanno un ruolo centrale, fondamentale nell'economia, sia sul piano macroeconomico che microeconomico. In alcuni casi abbiamo invitato gli Stati a monitorare l'impatto di queste riforme sull'occupazione, penso all'Italia e alla Germania in particolare. In altri casi la Commissione ha raccomandato delegazioni specifiche per garantire che l'andamento dei salari sia in linea con gli sviluppi della produttività, sostenga l'occupazione e anche la domanda interna.